Conosciamo l'erbe. Questo è il trifoglio, vedete? Voglio sapere cosa nasconde. L'apparoto radicale. Ecco qui l'apparoto radicale. Vi faccio vedere una cosa adesso da qui, metto il viso. Alla scoperta delle radici del trifoglio, vedete? Questo è il trifoglio che cotto lì. Mezzo e mezzo circa. Adesso proviamo a vedere questa. L'apparoto radicale, come ce l'hanno? Ecco, vedete? Questo è il piccione. Vediamo come state questo piccione. Vediamo come ce l'hanno. Ecco qui, ecco qui, vedete? E facciamo anche questa qui. Guardate i trofei. Adesso devo vedere. Io ho un libro di angolisteria. Se è a uso fitoterapeutico, è buona la radice o meno. Ecco qui, il mio orto c'è tutto. Ecco.